Il migliore spettacolo Dinastie Bastarde è andato alla compagnia La Torre del Drago di Bitritto con lo spettacolo Dinastie Bastarde il primo premio del Gran Galà Scena Punto Zero organizzato al teatro Traetta di Bitonto dalla Fita Puglia, la federazione italiana teatro amatori un premio al quale hanno partecipato ben 25 compagnie pugliesi la serata è stata resa ancora più piacevole dallo spettacolo Cetra Una Volta storia di un quartetto della compagnia Tarantina Colpo di Scena soddisfatta la presidente di Fita Puglia, Anna Maria Carella che ha affidato ai social network i ringraziamenti per la condivisione e la partecipazione all'evento che aveva lo scopo di raccogliere fondi a favore di libri su misura l'associazione di volontariato che nell'ospedale San Paolo di Bari ha realizzato per la prima volta in Italia l'iniziativa Biblioteca in Corsia Un epilogo divertente con il quartetto Cetra della compagnia Colpo di Scena che ha alietato tutta la serata con delle vibe di nostalgia che hanno colpito un po' tutti speriamo per l'anno prossimo di replicare questo grande successo e un grazie a voi tutti perché sei donna, nada per farci amar donna, nada per dominar